20 anni del Dipartimento di Architettura di Alghero, siamo con il suo direttore Emilio Turco da poco più di un anno alla guida di Santa Chiara e un bel anniversario da festeggiare con i risultati che questo Dipartimento porta sempre ad Alghero, quindi i primi due posti della classifica Censis e soprattutto tante novità che riportano anche la presenza e soprattutto gli eventi dopo i due anni di pandemia. Professor Turco, ci racconti un po'. Sì, grazie. Noi siamo particolarmente contenti di riniziare in qualche modo dopo la pandemia di ricominciare con le attività in presenza e soprattutto con una stagione di eventi culturali che un po' ci ha caratterizzato negli anni passati. Stiamo organizzando i futuri, quindi quelli per i prossimi mesi in modo tale da garantire ai nostri studenti oltre che un'effetta formativa all'altezza. Ricordo che noi siamo sempre da dieci anni nei primi posti nella classifica Censis, siamo l'unica scuola d'architettura d'Italia che riempie completamente i posti messi al bando. Stiamo per lanciare un nuovo corso di studi, speriamo che sia fortunato come i precedenti, che è il corso di studi in design che partirà subito dopo l'estate. Io sono particolarmente orgoglioso di dirigere questa scuola e credo che io e tutti quanti i miei colleghi ce la stiamo mettendo tutta per dare al territorio sardo, al territorio di Sassari e in particolare al comune di Onghiero che ci ospita, tutto quello che possiamo in termini di risorse scientifiche e culturali. Ospidiamo ormai da tanti anni anche eventi piuttosto importanti che portano sul territorio algherese sicuramente anche dei benefici economici oltre che di immagine. Adesso manca un impegno in più, siete ospitati ovviamente in una sede bellissima, prestigiosa nell'ex ospedale, però mancano degli spazi, mancano degli spazi soprattutto riguardo alla casa dello studente e alla mensa. Sarebbe un passo in più soprattutto per i fuori sede in questa città. Sì, questo è sicuramente un punto importante. Io so che era nel programma del rettore, il professor Mariotti e so che in più di un'occasione si sta impegnando per poter fare in modo che i nostri studenti abbiano una casa dello studente, una mensa, uno student hub all'altezza delle aspettative che i nostri studenti hanno dal Dipartimento e dall'Università di Sassari. Io spero che in tempi brevi riescano ad affiancare a edifici prestigiosissimi come quelli che abbiamo il Palazzo del Povo Salit, l'ex ospedale compresso di Santa Chiara, l'ex Asirosella, si riesca ad affiancare anche degli altri spazi. Stiamo lavorando insieme al Comune di Alghero per redigere, credo che lo presenteremo oggi o domani al massimo, un nuovo progetto finanziato dal Piano Nazionale sulla Ricerca, per utilizzare l'ex cotonificio di Alghero come centro di ricerca finalizzato al design e aperto completamente al territorio algherese. Dico solo per far capire che cosa intendo, che i laboratori di ricerca che saranno, troveranno posto nell'ex cotonificio e che saranno finanziati dall'Ateneo di Sassari, saranno aperti a tutta quanta la città di Alghero.